Il capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Ortona, Tommaso Coletti, commenta insieme a noi l'andamento di questa seduta consigliare dove si sono discorsi tanti argomenti importanti tra i quali ovviamente gli investimenti dell'amministrazione da qui a breve. Sì, questa sera la delibera più importante era quella riguardante gli investimenti nell'annualità 2012 che è l'ultimo anno in cui questa amministrazione ha la possibilità di contrarre mutui. Circa 4 milioni di mutui e una boccata di ossigeno sia per le opere Puma ma anche per le imprese che lavorano sul territorio perché 4 milioni messe sul territorio sicuramente in un momento di difficoltà fanno la differenza. Abbiamo fatto un Consiglio Comunale molto distesa anche con la minoranza che ha condiviso con noi questa iniziativa perché è un'occasione che dobbiamo cogliere nel giro di un mese e mezzo perché le richieste di mutuo devono arrivare alla Cassa Deposita e Prestiti entro la fine del mese di novembre per cui da domani la Giunta dovrà preparare i progetti definitivi per poter fare la richiesta alla Cassa Deposita e Prestiti a fine novembre in maniera tale che entro il mese di dicembre i mutui vengano concessi. Dopodiché si faranno gli appalti, si realizzeranno le opere. Molto positivo è stata anche la proposta della minoranza per inserire nel prossimo triennio di investimenti delle opere che sono importanti per la collettività tipo un nuovo palazzo di trasporto, un teatro all'aperto ma anche negli investimenti che abbiamo proposto noi per l'annualità 2012 cioè la modifica al piano triennale dell'annualità 2012 prevede una serie di opere stradali interventi sulla manutenzione straordinaria delle scuole e sugli edifici pubblici e opere che hanno un impatto fondamentale sull'economia della città. Una serata buona per questa città, la Giunta d'Ottavio e la maggioranza di centro-sinistra che sono stati capaci di sottolineare la volontà di concretizzare il programma con cui ci siamo presentati agli editori.